Ad Ariccia il campetto parrocchiale a Borgo Manero la struttura dell'oratorio. La chiesa italiana continua a offrire i suoi spazi per le vaccinazioni e nuove adesioni si registrano dopo la disponibilità offerta sabato scorso dal cardinale presidente Ceni. Qui siamo ad Ariccia, diocesi di Albano. Il parroco ha dato in suo via libera affinché fosse montata nel campetto parrocchiale l'attenso struttura della Croce Rossa. Molto volentieri insieme al consiglio pastorale abbiamo deciso di mettere a disposizione la struttura per venire incontro in questo momento molto particolare della pandemia per la vaccinazione. Questo con molta volontà e con molto piacere. Dal centro al nord Italia, qui siamo all'interno della struttura dell'oratorio di Borgo Manero, diocesi di Novara, lì dove di solito si svolgono le attività di formazione e animazione, ora trova spazio il centro vaccinale, anche perché i locali parrocchiali si trovano a pochi passi dall'ospedale. La parrocchia Santa Croce di Borgo Manero ha dato gratis la disponibilità dell'uso del centro parrocchiale per sette mesi all'Ast di Borgo Manero. La parrocchia come chiesa è stata contenta di poter offrire questa ospitalità anche nella revisione moderna e attuale dell'opera di misericordia visitare gli infermi.